buongiorno io non so più dove metterli 45 addolcitori ben 9 pedane di addolcitori scaricate qui ora nel nostro deposito addolcitori da 14 da 20 25 30 kg di resina affinatori d'acqua della fimi la migliore marca di addolcitori in commercio che dire ragazzi io penso che siamo i migliori in campania ma che dico in campania nel sud italia sulla rivendita di addolcitori per questo venici a trovare siamo fiorentino srl ci troviamo in via sanato 26 a sorrento oppure contattaci a info chiocciola fiorentino 1932.com per un preventivo totalmente credito aiutatemi perché io non so più dove metterli grazie